Lo sbarco degli alleati in Italia è raccontato a Firenze nel Museo Nazionale Alinari della Fotografia attraverso 78 scatti dai grandi fotoreporter ungherese Robert Capa, l'uomo che rivoluzionò il fotogiornalismo vivendo la sua professione fra i soldati nei campi di battaglia dei cinque maggiori conflitti mondiali in Europa, Medio Oriente, Cina e Giappone. L'esposizione, curata da Beatrix Lengiel, è nata per celebrare nell'anno culturale Ungheria-Italia il centenario della nascita di Capa. Le foto provengono dalla terza master selection delle sue opere, conservata a Budapest e acquisita dal Museo Alinari. È un Capa del tutto inedito, ma esattamente il Capa che si intuiva dalle due o tre fotografie sue conosciute quando era sbarcato in Sicilia e le altre fotografie che Capa ha fatto poi a Omahabic. C'era questo buco nero, si sapeva che lui era comunque in Italia a seguito dell'esercito americano e poi era una persona di un coraggio estremo perché lui lo dimostra il fatto che le sue fotografie sono sempre fatte in prima linea. Nelle foto scattate in Italia Capa ritrae la vita dei soldati e dei civili, dallo sbarco in Sicilia fino ad Anzio. Un viaggio fotografico per rivelare con profonda umanità del tutto priva di retorica le facce e le emozioni della guerra nel cuore del conflitto.